teledurruti mi trovo a casa di antonino iuorio amico volto del più straordinario teatro italiano e non soltanto e questo è un suo disegno ma una sua guasci ma scopro anzi lo scoprite voi stessi anzi prima mostriamo l'esterno scopro che antonino è radio amatore antino ma allora esistete ancora questo è un collega dalla russia vediamo un po' se riusciamo a hello hello cq cq this is india zanzibar zero golf yankee radio india zulu zero golf yokohama radio calling and buy italianschi stanno parlando gli rompiamo i coglioni facciamo i soliti italiani e allora no andiamo da un'altra parte compagni compagni c'è qualche parola in russo this is this is rom rom capital india zulu zero golf yankee radio tovarish non è bello silenzio eloquente allora andiamo da un'altra parte facciamo una chiamata vediamo se dovessimo adesso mettiamoci su 14.200 e facciamo una chiamata hello cq 20 meter la banda dei 20 metri cq 20 meter this is india zulu zero golf yankee radio rome capital calling cq 20 cq 20 meter india zanzibar zero golf yankee radio rome capital calling cq 20 cq 20 meter i sierra mike 4 uh sierra mike 4, please complete your call sign sierra mike 4, whiskey delta quebec, new mobile station ok, sierra victor 4, whiskey delta quebec welcome into the capital city of italy my name is antonio antonio, alpha november tango oscar, november india oscar antonio, and you are 5 and 9 where are you located? what's your country? it's very nice to be here, you caught my own wrong radio but thanks to your portfolio ok, please, can you tell me what's your country? where are you from? where are you from? over my country is sweden sweden ok, so you are from sweden ok, thank you very much my friend 73, 51, good luck, arrivederci da roma, ciao hello, cq, cq20, cq20, this is rome this is station india, zulu zero, gulf yankee radio rome capital standing by for call yankee something, please qrz yankee orcar 9, charlie chilo juliet, 39, charlie chilo juliet, buongiorno caro amico antonio buongiorno, buongiorno, where are you from? what's your country? over romania, romania, yankee and rome un rumeno radio amatore yes, my friend, yankee oscar 9, charlie chilo juliet, thank you very much for your call this is the capital of italy my name is antonio, radio amatore it's uh, it's uh, it's rome, over tele d'oroti